Tempesta è un racconto che costituisce un attraversamento della più celebre tempesta di William Shakespeare. Ho provato a raccontare il contemporaneo con una lingua antica, che è la lingua di un autore straordinario, che rappresenta la storia della letteratura, un universo intero. E ho provato a raccontarlo facendo di questa una tragedia universale, facendo della tempesta un evento che è in grado di cambiare la storia del mondo ed è in grado di cambiare ciascuno di noi. Passando per la tempesta nessuno di noi resta quel che era e nessuno di noi può pensare di non essere dentro questo processo, questo cambiamento che coinvolge il nostro mondo. I personaggi sono tratti in parte dalla tempesta di Shakespeare, altri invece hanno dei nomi totalmente differenti o vengono da altre tradizioni letterarie. Naturalmente sono molti i riferimenti usati all'interno di questo testo ed è un testo che oscilla fra naturalmente la tragedia e anche la commedia, così come la tempesta di Shakespeare. È un racconto che si chiude drammaticamente, è un racconto corale ed è un racconto che punta a riflettere ciascuno di noi sulla sofferenza nella quale siamo immersi e che tentiamo di nascondere a noi stessi.